dai siamo qua con luca rossi una zero importante con una contendente per salire col bargagli cosa ne pensi assolutamente vittoria di gruppo importante per com'è arrivata anche per noi per la squadra per il gruppo perché non eravamo partiti bene sabato scorso e ci volete è una società che investe tanto sui giovani tanti 98 gol di campazzo che è un 2000 si vuol dire tanto anche anziani importanti un buon gruppo tu che sei un 98 come loro ambizioni tue per il futuro il nostro obiettivo è far bene in bocca al lupo un campionato grazie a tutti